Sindaco, al ballottaggio vanno Macron e Le Pen, che segnale arriva dalla Francia? Io, anche l'ho fatto anche con un breve posto, avrei votato Melencon, che mi sembra rappresenta il progetto politico più interessante di aggancio al popolo, di cambiamento e di forza anche ribelle rispetto all'Europa delle austerità e all'Europa degli egoismi. Il segnale che viene è il crollo anche in Francia dei partiti tradizionali, questo mi sembra il tema principale, si va verso, ma non è scontato, una vittoria di Macron.